Bonjour ragazze, bonjour ragazzi, bonjour mia family, come state oggi? Io sono molto in ansia perché non vedo l'ora che arrivino le 17.30 per vedere, leggere i vostri commenti per vedere che cosa ne pensate del mio cambio look così spontaneo e pazzo, però io sono molto molto contenta ragazzi, oggi in realtà non andrò a farli mossi né niente, non mi truccherò nemmeno perché voglio riposare, voglio far respirare e riposare un pochino la pelle visto che mi sono spuntati un paio di brufoletti che però sono assolutamente, assolutamente riconducibili alle tantissime schifezze che ho mangiato nel weekend e mi è piaciuto tantissimo il vlog di ieri perché vi dicevo all'inizio video, no? Quando lo rivedevo poi nel montaggio vi dicevo all'inizio video sì perché oggi mangerò healthy e poi a fine video pizza, quindi tipico tipico mio quindi mia family, i piani di oggi in realtà si cerca di uscire il meno possibile come sapete quindi non uscirò di casa, volevo fare la spesa online ma ho visto che ci sono grosse difficoltà qui con l'app che va praticamente in, cioè si blocca se provo a fare la spesa online penso che stiano cercando un po' tutti di fare la spesa online quindi è tutto in tilt anche qui in Olanda in questo momento, probabilmente domani andrò direttamente al supermercato perché mi servono delle cosine, niente di urgente in realtà però se non riesco ad ordinare entro oggi, domani faccio prima vado al supermercato alla fine ieri per sistemare il video in modo che fosse online, oggi puntuale che non so se sarà online puntuale perché inizio a filmare proprio tardi oggi ragazzi perché sono stata tutto il tempo al computer per cercare di mandare online il video in orario ma sto avendo delle difficoltà sia tecniche che di linea quindi incrociamo le dita, incrociamo le dita, sapete che mi dispiace se non riesco ad essere puntuale però insomma il video arriva, questo è l'importante ah tra l'altro ragazzi novità finalmente mi sono arrivati i gancetti per le tende e sono riuscita ad appenderle e ve le faccio vedere già le avevate viste appunto ancora impacchettate ma eccole qua e appunto riesco finalmente ad avere buio quando dormo la notte ragazzi e sono molto molto contenta di ciò, ci volevano proprio ci volevano altra cosina che ho acquistato da poco è questa luce notturna ragazzi che adesso è spenta ma voglio farvi vedere che è troppo simpatica con questo gattino e cambia colore, si può scegliere, adesso l'ho messa in carica però si può scegliere se lasciarla così che cambia colore, l'ho presa su amazon, non l'ho pagata neanche tantissimo oppure si può avere anche semplicemente come una luce normalissima e mi piace tantissimo il fatto che sia squishy fantastico, quindi questa è la mia lucetta notturna ragazzi lo sapete che a me non piace dormire al buio quindi ho la mia lucetta piccolina, adesso la lasciamo ok, che è un po' un controsenso mi rendo conto perché la lucetta notturna sì, non mi dà fastidio, però la luce che arriva dall'esterno quella mi dà fastidio e mi sveglia effettivamente ragazzi è un po' strano però è così, forse la luce che arriva dall'esterno è talmente forte che comunque appunto riesce a svegliarmi mentre la lucetta piccolina non mi dà fastidio forse perché mi addormento già con la lucetta e quindi non essendoci un cambiamento poi di luminosità non mi sveglia, non so spiegarvela questa cosa però la lucetta notturna mi va bene e non mi dà fastidio e non mi sveglia invece la luce che arriva dall'esterno qui ragazzi era fortissima e mi svegliavo ogni mattina ho già rifatto il letto quindi la stanza è in ordine tra l'altro ragazzi non so se avete notato in uno degli ultimi video ma ho messo tutte le lucette con le zucche di Halloween che sono troppo troppo carine e ve le faccio vedere accese se non le avete notate nell'ultimo video eccole se non le avete notate nell'ultimo video guardate che carine scusate il disordine in questo momento ma naturalmente questo è il letto per gli ospiti e adesso voglio fare un po' di skin care non mi truccherò ma un po' di skin care decisamente decisamente sì coccoliamo un po' la pelle outfit di oggi invece è molto easy naturalmente quando sto a casa e lo sapete che mi piace stare comodissima in realtà dopo la quarantena iniziale ho iniziato ad apprezzare la comodità molto di più quindi mi piace stare in tuta anche quando esco in realtà però decisamente quando sono a casa mi piace stare super comoda quindi ho pochissimi pochissimi accessori soltanto gli orecchini in questo caso mi chiedete spessissimo dove compro gli orecchini che indosso questi che sto indossando in questo momento se non sbaglio sono tutti di Missoma tranne un paio che sono di Maria Tash anche questo che ho sul trago è un diamante mi piace tantissimo e l'avevo preso appunto sul sito di Maria Tash che fa dei piercing bellissimi se non la conoscete sono dei veri e propri gioielli per questo mi piacciono non sono i classici piercing che secondo me hanno stufato già da un bel po' e invece sono appunto dei bellissimi bellissimi gioielli comunque appunto stavo dicendo dell'outfit molto easy molto semplice ho questa tuta con questo crop top un pochino più corto che ho preso su ho controllato perché non ero sicura e l'ho preso su Missguided e inauguriamo anche oggi ufficialmente la stagione delle calze buffe, comode, cosi e peluciose perché da oggi sto indossando i calzettoni quelli proprio stile inverno tipo come se ci fossero meno 30 fuori questi sono quelli con la renna che però ho comprato l'anno scorso e hanno perso il naso c'era un pompon rosso col naso però ragazzi io adoro e quindi vanno benissimo anche così sono buffi lo so ma i miei piedini sono caldi comunque ragazzi mi avete scritto anche che nei video che faccio qui nel mio studio c'è troppa confusione nel background e vedendoli nel montaggio sono d'accordo non ho trovato ancora la sistemazione ideale infatti penso che filmerò davanti al divano che se non sbaglio come sfondo tra tutti era quello che vi è piaciuto di più giusto quando dietro si vedeva solo il divano confermatemi mi raccomando nei commenti ma penso che esteticamente tra tutti i background sia quello che mi piace decisamente decisamente di più adesso facciamo un po' di skin care quando non esco di casa ne approfitto per curare la mia pelle lenirla, idratarla perché quando esco qui ragazzi c'è freddo, c'è vento, con la pioggia eccetera la pelle ne risente tantissimo specialmente la mia pelle delicata soprattutto nelle zone dove si arrossa molto facilmente infatti si vede anche qui ai lati del naso e poi sulle guance quando fa freddo sono una specie di come la renna rudolf appunto di babbo natale ma quando fa freddo la mia pelle che è super delicata diventa tutta tutta rossa torno al naso e tutto qui sulle guance appunto perché ho bisogno di lenirla tantissimo in inverno ancora più che in estate è un prodotto che vi voglio far scoprire che per questo è veramente fenomenale è questa maschera ragazzi della maschera gel aloe idratante lenitiva di verde oasi milano credo che non si parli abbastanza di questo brand è un brand molto molto serio made in italy e ragazzi questa maschera è la fine del mondo specialmente appunto per le pelli delicate sensibili che risentono tanto del freddo o che comunque hanno molti rossori come la mia oppure anche per pelli normali e miste però che risentono appunto del freddo se la pelle vi diventa più secca in questo periodo, più arrossata eccetera ragazzi questa maschera è fantastica ed è a base di aloe e camomilla quindi ingredienti naturali è molto molto rinfrescante ma al contempo è in grado di idratare la pelle ma non la lascia assolutamente unta è un'idratazione giusta per il livello giusto di pelle non so spiegarlo ma quando ho la pelle molto secca questa me la idrata tanto quando ho la pelle normale insomma né troppo secca né troppo grassa questa mi dà il giusto livello di idratazione infatti ne ho usata già parecchia perché adoro adoro questo prodotto ragazzi leghiamo i capelli così l'applichiamo assieme e vi faccio vedere ok più o meno quando la pelle è molto stressata la uso addirittura tre volte a settimana va applicata appunto da una a tre volte a settimana e si lascia in posa dieci minuti ragazzi ha un profumo di aloe questa maschera che è la fine del mondo e chi ha la pelle sensibile sa bene che l'aloe è fondamentale per calmare appunto i rossori e le pelli problematiche ok ragazzi adesso lascio la mia maschera in posa per l'applico anche tra l'altro sulla zona sopra al labbro in questa zona non applico mai le maschere che sono aggressive questa è ovviamente super super lenitiva e anzi ha un effetto proprio calmante sulla pelle quindi la applico anche in questa zona e adesso aspetto dieci minuti la lascio in posa e quindi ci rivediamo tra poco anzi ragazzi mentre lascio in posa la mia maschera gel all'aloe vado a prendere dal freezer un prodotto che voglio farvi scoprire che è perfetto da utilizzare anche durante le maschere in gel ma non solo adesso vedrete perché io quando l'ho scoperto sono impazzita non avevo mai visto un prodotto del genere adesso vedete tutto eccoci qua adesso vi faccio scoprire di che cosa si tratta ed è questo ed eccola qui ragazzi questo è il prodotto che devo assolutamente farvi scoprire si chiamano appunto sfere wellness la mia è la silverstone ci sono sia calde che fredde appunto la mia è fredda perché il freddo tonifica e rivitalizza e quindi mi piace moltissimo massaggiare il viso ma anche il decolleté in realtà si può usare per il massaggio su tutto il corpo a me piace tantissimo utilizzarla per il viso adesso vi faccio vedere esattamente il massaggio che faccio e la utilizzo appunto così facendo dei movimenti sempre sempre verso l'alto mamma mia ragazzi questa è veramente un toccasana per sgonfiare la pelle sgonfiare le occhiaie anche in questa zona è fantastica se avete il problema che ho io delle borse perché io non ho tanto appunto un problema di di scolorazione sotto le occhiaie ho soltanto il problema delle borse degli occhi gonfi e della un po' della ritenzione secondo me ritenzione idrica quindi queste mi aiutano tantissimo a sconfiare ragazzi e hanno cioè è una specie di trattamento spa che ti puoi fare da solo tengo sempre in freezer così è pronta sempre per l'uso e va messa sempre in freezer con il polistirolo è molto importante e mi piace appunto utilizzarla per andare a definire la zona qui del della mandibola e quindi vado un po' a fare l'effetto lifting ok fantastica soprattutto se la mattina siete imbambolati come me questa ti sveglia ti sgonfia istantaneamente è fantastica se la conoscete fatemi sapere nei commenti appunto penso che non si parli abbastanza di questo brand verde oasi mirano perché hanno dei prodotti molto molto specifici molto molto professionali e sono made in italy quindi è molto importante specialmente in questo periodo supportare le aziende del nostro made in italy vi lascerò il link al sito web dove potete acquistare questi prodotti appunto al sito web di verde oasi milano di arco cosmetici qua sotto nel box informazioni e poi sempre della stessa linea anti stress di verde oasi milano ci sono anche due creme idratanti per il viso una è la crema lenitiva l'altra invece è la crema anti stress anti inquinamento oggi vado ad applicare questa perché non devo uscire questa invece è un po' più trattamento urto diciamo appunto anti inquinamento quando stiamo nelle giornate in cui stiamo tanto fuori casa questa è fantastica perché protegge da vento da freddo da sbalzi termici oltre che appunto dallo smog trattamento super strong super urto che adoro ma appunto l'applico di più quando sono tutto il giorno fuori mentre se non devo uscire di casa vado appunto ad applicare la crema lenitiva che ha la stessa azione appunto lenitiva che tanto serve alla mia pelle questo dà un immediato sollievo alle pelli con rossori e ha questo effetto calmante che adoro anche il profumo e altro prodotto che voglio farvi scoprire ma non vado ad applicare in questo momento perché non sto per uscire quindi non ne ho bisogno questo è SOS rossore ed è un trattamento appunto antirossore che va però applicato localmente cioè solo nelle zone in cui abbiamo proprio appunto questo problema di pelle arrossata prima di uscire ad esempio io lo applico sempre ai lati del laso qui dove ho sempre sempre i capillari più delicati la pelle che mi si arrossa questo è fantastico perché crea una vera e propria barriera tra la pelle e l'ambiente esterno quindi riesce a proteggerla molto molto bene anche oggi ho chiesto all'azienda per voi un codice sconto ricordatevi che non ci guadagno mai assolutamente nulla sui codici sconto è proprio soltanto una cosa che può servire a voi penso specialmente in questo periodo e vi do il 30% di sconto ragazzi su tutto quello che volete sul sito 30% se utilizzate il codice NICOL30 quindi mi raccomando date uno sguardo a questo brand se ancora non lo conoscete perché opera nel settore da 40 anni ed è un brand molto molto valido nel frattempo si è già fatto buio fuori ragazzi è incredibile come faccia buio nel nord Europa presto cioè tipo alle 4 4 e mezza già non c'è più assolutamente la luce del giorno quindi questa cosa me la ricordo quando abitavo qui ed è molto molto strano in estate perché c'è sole fino alle 11 e mezza è molto strano anche in inverno perché in realtà il sole tramonta prima comunque ragazzi ho scoperto che il mio computer ha bisogno di andare urgentemente all'Apple Store infatti voglio scusarmi con voi per il ritardo nel video di cioè di ieri per voi però per me e adesso perché il video non riuscirà ad andare online puntuale perché oltre ai problemi di rete che avevo il problema più grosso che si è ripresentato io pensavo fosse una cosa isolata invece no il mio computer si sta spegnendo da solo e vi faccio vedere la schermata che appare quando si spegne da solo perché magari c'è qualcuno di voi che sa aiutarmi ce l'ho da due anni esattamente due anni e due mesi quindi non penso sia in garanzia ma visto che venerdì sono comunque ad Amsterdam andrò anche all'Apple Store e sperando che sia una cosa che possono risolvere subito perché io non posso stare senza un computer quindi non so come fare onestamente non so come fare e questa è la schermata che appare praticamente scusate la zozzaggine del mio schermo ma questa è la schermata che appare e praticamente è una scritta che mi dice in 50 lingue diverse che il mio computer ha dei problemi praticamente e che per questo si spegne quindi aiutatemi che cosa può essere ragazzi c'è qualcuno di voi che lavora all'Apple Store che se ne intende di computer che cosa devo fare mi prenderanno il computer e non potrò più avere il computer per un po' e io cosa faccio oh mio dio ok ragazzi venerdì avremo la risposta venerdì avremo la risposta nicole calma e sangue freddo e che io senza computer cioè senza computer senza cellulare cioè sono persa come faccio a lavorare quindi ragazzi un po' di panico per questo un po' di panico cosa mi fai vedere ah nil che guarda le robe di moro gram cosa hanno fatto ormai fan fisso non vedo ah c'è il repost del tuo commento save gattastelline te la porti via la porti via gattastelline vai a bologna no gattastellina lei mi abbandonerebbe in un secondo guardala si è liquefatta praticamente poi c'era un'altra cosa che volevi farmi vedere ah io ti farei vedere tutte perché mi piacciono non capisco nil si diverte un sacco quando qualcuno riposta le cose che scrive eccetera cosa cosa scusami no ci sono troppe cose ma troppe cose cioè tipo quelle più divertenti che mi chiamano ambrogio ti chiamano ambrogio no sono pagine ragazze di gossip sono riconosce no fammi vedere non ho visto ma con ambrogio ma povero nil con ambrogio con la feppa gialla ci stava ambrogio ah si è vero perché la tizia era tutta gialla no hai ragione mamma mia chi si ricorda di quella pubblicità commenti se siete vecchietti ve la ricordate io non me la ricordo eh anche è vero perché tu c'hai sempre cos'era 22 no si si certo certo scusa ridi dai fammi vedere appena spengo la videocamera mi fai vedere la roba cosa c'è tu queste cose le metti veramente nei video cioè non me le togli io pensavo che le tagliamero perché dovevo tagliare era bellissima questa cena dai nick ti diverti io adesso devo controllare ogni volta che dici i video devo mandarti i video in approvazione come faccio con i marchi con i brand con cui lavoro ti mando il video in approvazione fino a quando mi dai l'ok non va online scusa mi avevi detto tu fai vedere questa scena che faccio in slow motion eccetera l'avevo fatta scusa già ho paura anche di altre scene che penso che hai messo si c'è anche la scena di te che fai le flessioni si chiamano flessioni di te che fai le flessioni sui secondo piano scusatemi che parlo strano che c'ho l'invisalign gata semi semi ti prego non ti erano mancate queste mie uscite con la videocamera che ti filmo nei momenti meno opportuni per niente ah grazie inizio abbiamo risolto hai risolto si come cioè nel senso come salvare un altro formato si ma no ma io pensavo il problema del fatto che il computer mi si spenga da solo no intanto avevo risolto il problema del caricamento dei video che era lento grazie no non era il caricamento era quello dopo l'elaborazione infatti quando avrai tempo qualche minuto per me facciamo un piccolo test carichiamo lo stesso video e vediamo in che senso vuoi che ricarichi lo stesso video si vuole vedere quanto tempo ci impiega mettendo in un altro formato che dovrebbe essere quello giusto per youtube ah ok quindi dici che io non caricavo i video nel formato giusto perché io li mettevo in punto mov e devono essere mp4 punto mp4 ma io che ne so ragazzi il programma di montaggio mi crea ma io non lo so io sono una creator non ci capisco niente di queste cose di tecnologia cioè voglio dire infatti inizialmente era Neil che mi aiutava in tutte le cose di per fortuna per poco cioè nemmeno per editing sei stata bravissima a capire come fare se no mi sparavo a stare lì due tre ore a seguire i comandi vocali perché erano i comandi vocali mica editavo come io penso erano i primi due video che avevi montato tu i miei primi due video poi dal terzo l'avevo fatto io se non mi sbaglio erano proprio i primi due che avevo firmato a casa tua a casa di tua mamma tipo mi faceva anche i comandi vocali taglia qui taglia qua con l'accento Emiliano Romagnolo poi fantastico vabbè comunque forse abbiamo risolto quindi si a me è una parte poi il computer vediamo ok adesso proviamo no perché è impossibile perché già il fatto che stavo caricando il video oggi due volte si è spento il computer poi l'elaborazione ci ha messo due ore e mezza e quindi se riusciamo veramente a ridurre anche te che carichi il tempo dell'elaborazione e vabbè gli piacciono i vlog lunghi non è mica colpa mia ragazzi diteglielo che siete voi che volete i vlog di un'ora e io faccio quello che mi chiedono scusa è anche poco guarda che in quarantena facevo vlog anche di un'ora e venti un'ora e un quarto comodamente ragazzi Nil non ci può credere ok Nil ha già parlato troppo si sono già troppo emozionata Nil è un uomo di poche parole dovete sapere praticamente tutto cioè noi ci parliamo praticamente soltanto durante i video per il resto comunque ragazzi stavo leggendo i vostri commenti all'ultimo video che finalmente è uscito in ritardissimo oggi ma ho visto che mi state facendo tanti tanti complimenti per il nuovo colore quindi vi ringrazio tantissimo perché sono molto contenta e per me è una conferma quando mi fate i complimenti vi dite che una cosa vi sta bene eccetera so che è così perché siete tantissimi e quindi vi ringrazio davvero tanto 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 sono contenta ero super in ansia non vedevo l'ora che andasse online il video quindi sono contenta adesso sono lì che vi metto cuoricino ricordatevi sempre che io li leggo tutti i commenti penso di non ripetervela spesso cioè penso di non ripetervela abbastanza spesso questa cosa ma leggo sempre tutti i vostri commenti anche se non riesco proprio a rispondere a tutti perché è impossibile però almeno vi metto cuoricino così sapete che vi leggo ecco questo è importante nel frattempo è arrivato il sushi che abbiamo ordinato e Nils sta preparando un film di Halloween di Halloween come si chiama? non so dobbiamo scegliere no quello della ragazza che mi hai fatto vedere ieri mother mother forse quella ragazza che scopre di essere una strega no abbiamo visto il trailer vabbè intanto vi faccio vedere che cosa abbiamo ordinato ragazzi c'è un sacco di roba finalmente sushi dopo secoli secoli che non lo mangiavo dovete sapere che prima Nils ti fa venire ti fa vedere i trailer di film fighissimi e poi quando te li vuoi guardare ti dice ma dove ma non esistono questi film ma dov'è che li hai visto ma non credo bu ma che vada vorremmo buono dai c'è il nuovo veramente dai anche questo deve essere carino il primo era veramente divertentissimo abbiamo visto ecco è sempre così con Nils come loro te lo devono dire ragazzi vi faccio vedere quello che abbiamo preso allora questa è la miso soup che ho preso io che mi piace tantissimo la zuppa di miso e soprattutto quando fuori fa freddo la prendo molto volentieri poi abbiamo preso allora questo roll con salmone avocado mango e granchio ed è un roll in tempura questo Denver che passeggia poi abbiamo preso allora Nils ha preso il temaki con salmone no si con salmone e avocado e poi tre nigiri al tonno questi li mangiamo assieme sono i maki con salmone affumicato e questi sono invece i nigiri con salmone affumicato non c'è sempre nei ristoranti il salmone affumicato ma quando c'è lo prendo molto volentieri e poi questi sono roll che ha preso Nils che hanno il salmone e l'avocado scusami l'hai trovato? forse l'hai trovato? si ma mi manca la tastiera l'hai trovato? l'abbiamo trovato dopo una lunghissima attesa ho scoperto che alla fine era già sul computer benissimo benissimo lo cercavamo su amazon prime su netflix ovunque come si chiama come si chiama il film alla fine diciamolo che è della disney disney si come? return to halloween town ok ok dai vieni a mangiare Nils non posso dire che si raffredda perché il sushi già è freddo ma mangiamo si vai carino questo film sono a halloween town non è spaventoso è molto halloweenesco però assomiglia un po' a harry potter la storia però è il femminile no lei che va nella scuola delle streghe così un po' mi ricorda ok prima di andare a dormire ragazzi voglio mettere un po' posto la mia cavina armadio che in questo momento è un po' un disastro e anzi anzi vedo le buste lì che non vi ho fatto ancora vedere qui su youtube perché mi sono già fatta i primi autoregali di compleanno che come sapete è il 14 novembre manca poco in realtà deve esserci ancora il mio autoregalo principale perché ogni anno ho tipo un autoregalo principale e poi tanti altri autoregali autoregali un pochino più piccolini ok ed eccoli i miei primi autoregali per il compleanno ragazzi il primo è stato questo ovviamente non aprirò assolutamente nulla fino al 14 novembre ok naturalmente come ogni anno il primo è stato questo di gucci che ho preso a milano e appunto vi farò anzi fatemi sapere se volete il video spacchettamento di tutti i miei autoregali vi farò il video dedicato e poi mi sono fatta e non lasciatevi ingannare dalla grandezza di questa busta mi sono fatta anche un autoregalo da Chanel questo sono stata qui ad Amsterdam nei giorni scorsi infatti se mi seguite su Instagram lo sapete perché vi ho messo il reel quindi intanto questi però appunto come vi dicevo ne ho in arrivo degli altri e in realtà adesso che ci penso ne ho in arrivo un altro perché ho fatto un altro acquisto un altro autoregalo da Louis Vuitton che sto aspettando mi arrivi quindi anche quello sicuramente includerò nel video se lo volete appunto il video dedicato ai miei autoregali di compleanno e poi appunto ce n'è un altro che sarà il big big present for me by me e che vedrete si mi dica basta se ne va Gatodember se ne va Gatodember dimmi che cosa c'è che cosa c'è tu mi lasci che devo mettere a posto questa stanza guarda che casino ok direi decisamente decisamente meglio ho lasciato appunto soltanto i due sacchetti nuovi che dovrò spacchettare con voi per il resto molto molto più in ordine e poi un altro video che ho in mente di fare ragazzi è sui prodotti sulle cose luxury quindi costosissime che però sono stati degli sbagli cioè non dei buoni acquisti fatemi sapere se è un video che vi può interessare l'avevo fatto anche l'anno scorso se non sbaglio vi era piaciuto molto quindi e ci sono diverse cose che dovrei già inserire purtroppo in quella lista quindi fatemi sapere ok mia family io sono già pronta per andare a nanna adesso andrò a fare un po' di skin care lavo i denti e mi metterò al montaggio di questo video che sarà online domani molto spesso se i video sono troppo lunghi da editare eccetera e troppo pesanti per poterli passare li edito sempre io quindi anche questo video mi metterò adesso a montarlo sto aspettando che mi faccia effetto l'ibuprofene ragazzi perché mi ha preso non appena mi sono fermata ho messo tutto quanto a posto mi ha preso questo mal di testa atroce infatti ho già preso appunto un antidolorifico non aspetto mai che peggiori perché mi sono resa conto che se aspetto con la speranza che mi passi da solo poi finisce per non solo non mi passa ma mi tengo il mal di testa per ore con questa speranza e alla fine prendo subito un antidolorifico quindi sto aspettando che mi passi non allora vado a periodi ci sono periodi in cui ho spesso mal di testa periodi in cui non mi capita quasi mai e nell'ultimo periodo mi capita raramente quindi sono fortunata ad avere l'ibuprofene in casa e niente mia family questo è quanto spero che sia stato abbastanza lungo questo video ma soprattutto spero di questi tempi di riuscire a strapparvi un sorriso e come vi dico spesso farvi passare qualche momento in allegria e magari appunto spero di riuscire a sviarvi un po' dalla situazione spero che mentre guardate i miei video potete stare spensierati e non pensare ad altro questo è insomma è tantissimo per me mi piace che il mio canale sia insomma un'isola felice di positività e allegria che è lì ad aspettarvi quindi mia family questo è quanto io vi mando un bacio grandissimo naturalmente vi do un abbraccio venite che vi abbraccio fortissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimo e io vi aspetto domani come al solito alle 17.30 devo essere puntuale io vi aspetto alle 17.30 ciao 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 Grazie per la visione!